ragazzi un mestiere con pezzi di recupero di cui vado molto fiero questa è la nuova, meglio il nuovo banco per metto sega che mi permetterà di tagliare tutta la mia lena, almeno quella relativamente piccola abbastanza in sicurezza senza distruggermi i gomiti su carica un portavolo, ma che deve, carico, amarito, un po' più a maglie che può fare anche roba un po' più gravita un po' più bello 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 bene, con la fine della benzina sono molto soddisfatto è perfezionabile, ma seguiranno perfezionamenti ciao un po' più bello